Ragazzi benvenuti, siamo all'indomani della grande vittoria in Europa League della Roma maturata sul campo del Johan Cruyff Arena di Amsterdam. Come sapete la Roma ha battuto l'Ajax per 2-1 nella gara d'andata dei quarti di finale dell'Europa League 2020-2021. Non nascondo che c'è un certo entusiasmo nell'ambiente, nell'ambiente tra giornalisti, tra tifosi perché il risultato è di quelli veramente pesanti per due motivi, perché l'avversario è un avversario di grande nome, di grande blasone e perché questo risultato è arrivato completamente inatteso, una grande sorpresa alla vittoria della Roma che essendo l'unica squadra italiana rimasta ancora in corsa nelle coppe europee ha tutta l'attenzione anche mediatica su di sé e quindi chiaramente tutti i tifosi italiani in un certo senso adesso attendono le prestazioni della Roma di Fonseca in Europa League e quindi chiaramente la credibilità anche internazionale di questi giocatori, alcuni dei quali ieri hanno giocato un'ottima partita. Aumenta questo video, questo video serve a parlare un po' di come quelle che sono state le reazioni dei vari personaggi che gravitano intorno all'ambiente a Roma e non solo. Furio Focolari, Furio Focolari dice alla Roma sei e mezzo, il migliore Paolo Lopez e Spinazzola, il peggiore diavara. Al 70% la Roma passa, attenzione ragazzi a non sottovalutare l'Ajax che è sempre una squadra, ripeto, di grande esperienza internazionale, non c'è mai da fidarsi di queste squadre. La Roma passa, è passata dalla polvere alle stelle. Ragazzi non esageriamo, nella semifinale ci attende il Manchester United, passato ieri sera a Granada per 2-0 e sarà un bruttissimo cliente, la conquista della semifinale in Europa League, lascerà poco. Abbiamo visto che anche la famosa conquista della semifinale di Champions League, quando c'era Di Francesco in panchina, ricorderete il doppio confronto con il Liverpool, poi alla fine ha lasciato poco. In queste manifestazioni bisogna arrivare in fondo e bisogna anche cercare di vincere, visto che nella bacheca giallorossa l'Europa League non c'è. Mai è successo che la Roma ha vinto quella che una volta veniva chiamata la Coppa UEFA. I più giovani forse neanche sanno che le coppe europee erano tre fino a una certa data. Secondo me è un sistema ben oliato, cioè chi vinceva il campionato giocava la Coppa dei Campioni, chi vinceva la Coppa Nazionale giocava la Coppa delle Coppe e le altre si qualificavano in base al ranking per la Coppa UEFA, che sarebbe l'attuale Europa League. Adesso poi si è cambiato tutto perché si è cercato di creare la fase a gironi per garantire a tutte le società un minimo di partito, un minimo anche di incassi. Sempre Furio Focolari, io la qualificazione la do quasi scontata alla Roma. Focolà non porta sfiga però, ma la Roma non ha giocato molto bene, a meno male che qualcuno lo dice. Solo Spinazzola ci era messo in mostra, pareggi su una papera del portiere, che papera? Ma io non riesco a capire una cosa, ma se Lorenzo Pellegrini non è capace di tirare le punizioni, ma si vede proprio in modo clamoroso, proprio un'occasione del gozo del pareggio, ma perché tira le punizioni tutte lui? Guarda, veramente per me è un mistero della fede questo. Ieri è è andata di lusso perché al terzo portiere fa una papera clamorosa, come diceva Pocanzi, Pocolari. Io nel video precedente ho detto, attenzione, nell'Aias gioca al terzo portiere, questo a questi livelli può essere un fattore. Speriamo che... i due titolari sono un'Ara e Seck Hellenburg. Questo ragazzo che ha un nome anche difficile da ricordare, ieri ha fatto una roba da terza categoria. Dicevo attenzione perché è un fattore che potrebbe incidere, è stato proprio così. La papera del portiere ha cambiato completamente le carte in tavola, anche perché ha dato autostima a una squadra che in quel momento, quando ha segnato, ha capito di avere raggiunto un risultato molto importante, perché fare gol all'andata sapete tutti quello che significa. Dunque, continua a Focolari, pareggi su una papera del portiere e poi ti rimetti dietro e l'Ajax può fare il 2 a 1, invece alla fine lo fai tu, perché questo... l'Ajax alla fine merita di vincere questa partita, diciamo la verità, Paolo Lopez in grande giornata ha un rigolo sbagliato, è andata così. Va premiato lo sforzo finale, ma non si può dimenticare la partita, è vero che devi cercare un altro portiere, ma ieri vanno fatti i santini a Paolo Lopez, Paolo Lopez è un portiere che pare quando gli si tira più o meno nel suo raggio d'azione, nel suo raggio d'azione lui copre bene uno specchio, i problemi di Paolo Lopez sono oltre a dei piedi non all'altezza per fare il gioco che vuole fare Paolo Fonseca che si appoggia molto al portiere, se tu gli tiri angolato non ci arriva, in sostanza è questa, non ha abbastanza forza nelle gambe, quindi spesso sbaglia la lettura anche delle situazioni e quindi non lasciatevi incantare delle parate che ha fatto ieri Paolo Lopez, che se le è andate a rivedere tutte, anche belle, ma sono tutte nel suo raggio d'azione, evidentemente in questo tipo di situazione lui para, poi si è anche saltato dopo la parata di questo calcio di rigore dove il Tadic, l'attaccante dell'Ajax che va a calciare un rigore così importante in quella maniera, forse prima della mattina si era bevuto un po' troppa birra perché la soluzione scelta è stata abbastanza pelletaria e quindi per non sapere né leggere né scrivere Paolo Lopez ha fatto la cosa più elementare, è rimasto fermo e quindi si è ritrovato praticamente il pallone addosso. Stefano Agresti, alla Roma voto 7, il migliore è stato Fonseca, sopporta di tutto, ma non mi pare, io invece penso che anche ieri Fonseca abbia fatto delle sostituzioni tattive, la Roma è l'unica italiana nei quarti e sembra ci sia sempre la guerra, migliore in campo Fonseca, il peggiore, la partita è stata strana, non lo so, a me non è piaciuto Cristante che invece secondo me gioveva anche bene, al 60% la Roma passa, l'Ajax ha regalato il pari alla Roma, anche la Roma l'ha regalato all'Ajax, si, ha regalato il primo gol, beh sì certo questo ragionamento ci può anche stare, il rigore nasce da un errore clamoroso della Roma, il gol di Bagnaz è stata la cosa più bella della partita, indubbiamente, nessun'altra italiana è ai quarti, è messa bene per arrivare in semifinale, va sottolineato il merito, Martina Zittonella quando passa il turno, quando vinci fuori casa, ad esempio è ragione, non si tratta di sottolineare, nei confronti della Roma ci vuole equilibrio, eh sì l'equilibrio a Roma è l'equilibrio questo sconosciuto e quando mai siamo stati equilibrati, se perde è un disastro e anche quando vince si dice a volte che è un disastro, si evidenziano sempre i problemi, la Roma quest'anno coda in assoluto di una critica che è di una severità senza uguali in campionato, la Roma ha pareggiato 2 a 2 con il Sassuolo, sembrava avesse perso 7 a 0 con chissà chi, lo so ma è prima di pareggiare 2 a 2 col Sassuolo, però la Roma ha perso a Parma, ha pareggiato a Benevento, ha perso col Milan in casa, ha perso col Napoli in casa e poi ha anche pareggiato 2 a 2 col Sassuolo e quindi ragazzi non estrapoliamo le cose dal contesto, Fonseca perde sempre, sia che la squadra vinca che perda, un clima così intorno all'allenatore raramente l'ho visto in rapporto ai risultati, ma non lo so, non lo so, questo sinceramente non mi pare che Fonseca, ma a me sembra invece che sia stato anche molto difeso da questa società, poi Xavier Jacobelli, la Roma merita 8, Paolo Lopez il migliore, il peggiore nessuno, quando vinci così in Europa e metti un piede in semifinale a ripari, faccio col piede in semifinale, ragazzi state attenti perché l'Ajax è sempre l'Ajax, vuol dire che il contributo è di tutti, credo che la Roma si qualifica al 70%, l'Ajax non è quello di due anni fa, è vero, perché ha venduto i pezzi migliori, ma è sempre l'Ajax, almeno 4 le pedine molto importanti che l'Ajax ha ceduto, una è stato De Ligt che è andata alla Juve, l'altra è stato De Jong che è andato al Baccellona, gli altri due adesso non me li ricordo, ma sono 4 pezzi da 90%, la Roma va sotto, pareggia e vince, grazie a un giocatore che era tra i peggiori in campo all'inizio, secondo me, la valutazione del giocatore non è che tu la devi, cioè devi valutare la partita, devi valutare l'episodio, la valutazione del giocatore è più complessiva, capito, cioè Bruno Perez per esempio, è un giocatore scarso, cioè, si è giocato bene ma rimane sempre un giocatore scarso, capito che cosa voglio dire, cioè non si può ragionare così, Dzeko è un centravanti forte, ha dimostrato negli anni di essere forte, poi ti può sbagliare la partita ma rimane un grande giocatore, capito cosa voglio dire, secondo me è una gran bella impresa, non solo per la Roma ma per il calcio italiano, come stavo dicendo poc'anzi, il fatto che la Roma sia l'unica italiana illizza in Europa è un aspetto positivo per la Roma e per il calcio italiano, grazie al cavolo, credo che Fonteca stia facendo un buon lavoro, ma Roma-Bologna vince la Roma, e vediamo, Roberto Pruzzo, Don 7 pieno alla Roma, è più equilibrato il giudizio di Roberto Pruzzo, fino a che c'è stato Spinazzola in campo la Roma riusciva a sviluppare situazioni che potevano creare cose positive, ottima la prestazione di Spinazzola, migliore in campo fino a quando, ennesimo infortunio, è dovuto uscire, per problemi muscolari, è una partita abbastanza alla pari, è vero, dopo hai preso gol, a cazzo di cane, aggiungo io, e sei andato un po' in crisi, sì, Paolo Lopez, spero che qualcuno l'abbia visto ieri e se lo prenda presto, e questa è un'analisi molto azzeccata di Pruzzo, sì, ha detto una cosa a giustizia, ma ha fatto un figurone ieri, speriamo che qualcuno ci abbia messo gli occhi addosso, perché chiaramente Paolo Lopez non verrà confermato con tutto quello che ha combinato quest'anno, Nando Orsi, che non so perché parla sempre di Roma, voto 6,5 alla Roma, bravo, Paolo Lopez, gli do 7,5, l'Ajax ha dominato, non mi pare proprio, la Roma non ha fatto niente, non mi pare proprio, poi loro hanno un portiere, poverino, il terzo portiere, se gioca di nuovo così all'Olimpico rischia, deve cambiare atteggiamento, ma questo lo sa anche Fonseca, deve soprattutto recuperare qualche giocatore importante, perché io quanto avrei voluto giocare questa partita con Smalling e Mkhitaryan, per esempio, tra i titolari, sono giocatori che non si possono regalare, ma anche Sharawi sarebbe stato molto utile, sarà utile anche a ritorno, soprattutto vedendo le condizioni scadenti di Pedro, il voto finale è 6, dunque, no, dunque, adesso passiamo a Stefano Carina, Stefano Carina, il risultato è da 10, se dobbiamo analizzare la prestazione è insufficiente, qua Stefano Carina può apparire un po' schiettofrenico, però alla fine dice una grande verità, risultato straordinario, ma la Roma non ha certo giocato la grande partita, soprattutto non è stata costante, il voto finale è 6 o 6 e mezzo, mi è piaciuto tanto Geko, ha fatto reparto da solo, beh, Geko si chiese, vi l'avevo anche detto nei video precedenti che era l'uomo che tecnicamente aveva la chiave di volta per cercare di influenzare positivamente questa partita, visto il suo livello tecnico, quando sta bene è un'altra squadra, mi aspettavo molto da Pedro ieri, ma Pedro purtroppo si sapeva che non era in condizione, purtroppo Fonseca lo fa giocare sempre, quindi qua è un po' il discorso di Pellegrini, non mi è sembrata male la partita di Pellegrini, sì, non mi è sembrata male perché ti ha segnato questo gol così importante sullo svarione del portiere loro, ma in realtà Pellegrini ha giocato la solita partita mediocre che sta giocando negli ultimi mesi, è un grande giocatore se gioca nel suo ruolo, che invece gli chiediamo di fare il trequattista, lo può fare ma non è il suo ruolo, lui è un centrocampista, sfogo Fonseca, si sono parlati con la squadra come è normale che sia, un conto è dire questo, un conto è dire che si sono mandati a quel paese, praticamente Fonseca dopo la partita nella conferenza stampa si è sfogato, un po' ha detto che sono state delle bugie sul conto del suo rapporto con la Roma, che prima di questa partita ci sarebbero state delle liti, delle discussioni, ci sarebbero mandati a quel paese, ma sono cose di spogliatoio, ci possono anche stare, ci possono essere delle discussioni, non mi sembra il caso né di enfatizzare né di stare a parte del gioco, purtroppo c'è anche molta tensione perché i risultati non sono stati buoni nelle ultime settimane, Ilario Di Giovan Battista, altro giornalista romano, la Roma ha in mano l'80% della qualificazione, quando pensi che la Roma sia morto più che altro, la Roma sarebbe un delitto se venisse eliminata, ma a questo punto però ricordate che ripeto, attenzione che l'Ajax è sempre una squadra di grande esperienza internazionale e non verrà all'Olimpico così per giocare, per passare il tempo, verrà all'Olimpico per giocarsi tutte le sue carte, come si giocherà anche tutte le sue carte il Bayern Monaco a Parigi, non crediate che avere perso in casa 2-3 contro il PSG, significhi che il PSG sicuramente passerà il turno, perché il Bayern farà di tutto anche a Parigi per qualificarsi. Quando pensi che la Roma sia morta, continua Ilario Di Giovan Battista, poi risorge, Paolo Lopez ha fatto 3 parate prodigiose, ha fatto 3 ottime parate, prodigiose eccessivo, oltre a Rigorico, gli hanno passato, e Ibanez che tira quel missile, questo è un gran gol, ieri brutta la partita di Pellegrini, allora non lo dico solo io, qualcun altro lo pensa come me, però si è riabilitato con la punizione, no, no, la punizione non vuoi volere di ste cose, noi dobbiamo essere obiettivi perché sennò allora raccontiamo che Pellegrini ha tirato all'incrocio dei pali, tanto molti neanche li vedono, gli highlight, Pellegrini dal limite dell'aria spostava sulla sinistra con l'interno destro, il tira, il tira, il tira è un eufemismo, calcia verso la porta, sul palo del portier, cioè sulla sinistra del portier, il portier è questo tiro molto debole, non deve fare altro che bloccarlo, invece lui inspiegabilmente fa un movimento tutto strano, tuffando sulla sua sinistra e sostanzialmente si butta al porto la palla da solo, questo basta per gli abilità e la prestazione di Lorenzo Pellegrini, ragazzi non siamo credibili, dichiarazioni Fonseca, si vede che non è sereno, questo indubbiamente perché questo l'abbiamo visto fin da quando Sessoduro in panchina che aveva una faccia che era tutto un programma, che molto probabilmente Fonseca che non era uno stupido, aveva anche messo in preventivo di poter prendere una gran bassonata ad Amsterdam, lo pensavano anche in molti tra l'altro e quindi si aveva concluso anzitempo la sua esperienza alla Roma. Io sapevo che non avrebbe giocato Villar, dopo il Milan lui ha avuto un problema con Villar, una discussione a Trigoria perché Fonseca accusa Villar di tenere troppo palla, questa mi giunge è nuova ed è scomparso Villar, io invece penso che Villar sia un giocatore ottimo perché nella partita di ieri sarebbe stato molto utile fin dall'inizio, ieri la Roma ha fatto una cosa enorme, indubbiamente, penso che nessun pronostico la dava così vincente, stava andando giù e poi è risolta, certo che se Tadic mette a segno il gol del 2-0 è finita la stagione, perché lì non ci si ripiglia più. Devi stare attento al ritorno, ma credo che passerà, uscirà l'orgoglio come Italia, ma... Mario Mattioli, io do 6 o 6 e mezzo per la vittoria in trasfetta alla Roma, partita difficile da interpretare, ma si deve partire dall'ottimo risultato che la mette a riparo da molte situazioni negative a ritorno, salvo Dzeko, ieri ha fatto una bella partita, come dire che gli altri hanno lasciato a desiderare, ma la partita della Roma non è che sia stata... diciamo che trovato il gol del pareggio è stata un'altra Roma, è salita anche l'autostima dei giocatori, hanno capito che si poteva uscire da Amsterdam con un buon risultato, magari che perdendo 2-1 è un buon risultato, quindi è salita proprio l'autostima, tutto sommato, poi c'è anche questa papera del portiere, ti sono reti conto che gli avversari avevano un portiere scarso, queste cose chi gioca a pallone sa che contano, quando tu giochi una partita, il primo tira un portiere, il 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 portiere ti fa passare, il pallone fa le gambe, è chiaro che psicologicamente pensi attacchiamo, tiriamo un portiere, questo continua a sbagliare e ne facciamo un altro, è chiaro, quando invece ti trovi un muro, uno che para tutto, ti demoralizzi pure, perché cominci a pensare che per fare gol non sarà facile. Riccardo Cotumaccio, sono tutti giornalisti dell'etere romano, comprensibile il piccolo sfogo di Fonseca, ma il piccolo sfogo di Fonseca è stato fuori luogo in una giornata come questa. A me sembra in controllo comunque, Roma a livello mediatico è differente, se la Roma raggiungesse la semifinale daremmo una valutazione molto diversa, è sempre il campo che palla, ragazzi vi ripeto, attenzione perché le semifinali non si mettono in bacheca e col Manchester è stata molto difficile e nonostante tutto vedo tantissimo attaccamento alla causa e credo che l'abbia trasmesso anche ai suoi giocatori. Mi auguro che trasmetta questa cosa ai giocatori, che gli ricordi che le imprese si possono fare, ma ragazzi qua quando vai in campo non è che devi far tutta questa filosofia, lì il problema è tattico, è tecnico, è come mettere la squadra in campo appunto, in funzione dell'avversario, cosa che Fonseca non fa perché lui ha il suo modulo quello è e va avanti così. Alessio Nardo, c'è ancora vita sul pianeta Roma, la semifinale è ancora tutta da conquistare, bravo, io avevo paura in Ucraina contro lo Shakhtar, la Roma poi è stata matura. L'Ajax è una bella squadra, non è straordinaria, l'abbiamo visto, non è paragonabile a due anni fa, è calata molto l'Ajax, però da romanista mi vivo alla grande questi sei giorni, perché sei giorni ci separano dal ritorno, vedere la Roma in una semifinale europea è un sogno, ma sì un sogno, abbiamo fatto la semifinale di Cempio un pochi anni fa, giocarsi questa partita è un sogno, è tutto un sogno, ed è una cosa che non possono dire altre squadre italiane, vabbè, non la frase significa niente. Paolo Opert è l'uomo del match, ieri bella partita anche di Bruno Persi, lo dicevo prima anche io, ma rimane sempre un giocatore scarto. Bene anche Dzeko, l'ho rivista all'altezza della situazione, magari Dzeko si sta un po' amministrando in funzione di queste importantissime partite di Europa Liga nelle quali la Roma si gioca tutta la stagione. Cosa dire di questi commenti? Di questi commenti è evidente che sono molto condizionati dal risultato che ha stravolto completamente quello che era il pensiero di tutta la tipoteria riguardo a questa partita, fino al gol del pareggio, o meglio forse fino all'ergo sbagliato, perché già sui social si stava partendo con le solide critiche nei confronti dei soliti giocatori, sono sempre gli stessi, della gestione, della formazione, eccetera. La Roma ieri stava giocando una partita corta, giudiziosa, equilibrata, stava tenendo bene testa all'Ajax, ma con un paio di svarioni, quegli soliti svarioni che vediamo in tutte le partite, aveva difensivi, aveva messo l'Ajax tranquillamente in condizione senza troppo penale di andarsene sul 2-0. E poi c'è stato l'evento che ha cambiato tutto, che è stato, come dicevo prima, il calcio di rigore tirato da Tadic nel peggiore dei modi, perché ha passato la palla al portiere, quindi non si capisce, evidentemente era convinto che Paolo Lopez si tuffasse, a prescindere, e forse oppure Paolo Lopez conosceva Tadic come tirare i rigori, e forse gli ha visto tirare qualche rigore al 100, ha pensato, tanto io a fil di palo non ci arrivo mai, prova a rimanere in piedi, vediamo se questo mi tira addosso, è andata così. E su quella lì è cambiata la storia di quella qualificazione. Poi il portiere loro ci ha messo sicuramente del suo, ma la Roma si era scossa, perché aveva capito che, scampato il pericolo, aveva capito che non poteva continuare con quell'atteggiamento, che doveva essere più, alzare il baricentro, tenere questa palla lontana dal limite dell'area, perché erano troppo pericolosi quando prendevano palla in quel momento lì. Ora i giallorossi sono attesi da una partita che in questo momento è piuttosto complessa, Roma-Bologna, perché ormai tutta l'attenzione è sull'Europa lì, che la Roma è indietro, anche in classifica, in campionato, quindi il Bologna è una squadra che sarà a giocare tranquilla, non ha niente da perdere, è un allenatore che è bravo a caricare anche l'ambiente, dei giocatori interessanti come, non so, Musa Barro, Vossolini, lo stesso Paraccio, che è un altro che sta vivendo una seconda giovinezza, ha tanti giocatori interessanti. Sarà una partita complicata col Bologna, ma ripeto, a questo punto, per come sono messe le cose, sicuramente giocherà Boggia Maior al titolare al posto di Dzeko, che va preservato per la partita contro l'Ajax, contro l'Ajax, come Ajax rivedremo in campo Cardos, che prenderà il posto dello squalificato Bruno Perez, che era diffidato ieri e stato ammonito, ha fatto tanto discutere la cervellotica ammunizione per i taglieri dal giovane Calafiori, quando una cattapalle olandese gli tira una pallonata addosso, proprio fuori luogo, Calafiori non fa nulla per meritarsi di un'ammunizione, forse dice qualche parola di troppo a questo ragazzino molto maleducato e anche male indottrinato, l'arbitro che non lo so, forse non aveva capito l'arbitro che aveva ricevuto una pallonata Calafiori e ha pensato che Calafiori volesse rimproverare il giarracattapalle e di avere perso tempo, di essere stato lento nel dare la palla, ma in realtà Calafiori è caduto proprio nella trappola di questo ragazzino, che lo ha fatto in nervosia e alla fine si è preso un'ammunizione che si poteva evitare, ma fuori luogo, Calafiori, cosa volete, entrare in una partita del genere per un giovane non è facile, è un ragazzo che è molto aiutato da questo gran fisico, ha avuto anche un brutto cliente come Anthony che è molto veloce, si è disimpegnato bene, non è che abbia entusiasmato, non è che intendiamoci, non è che ho visto Paolo Maldini in campo, però ha sicuramente superato la prova, chiaramente la difesa, giocare alla difesa della Roma non è semplice perché è chiaro che è una difesa un po' inventata con questo cristante centrale, che secondo me non ha senso, il Bagnas in realtà non è che ha giocato questa grande partita, però capisco che il gol in questo caso, un gol così bello, così importante, anche inatteso, gli alcia molto il voto finale per quanto riguarda la tua prestazione, in generale, Pedro malissimo, Biavarà così così, Paolo Lopez è andato molto bene, io lo riconosco, ho sempre parlato male di Paolo Lopez, quando gioca bene e fa delle belle parate lo dico, che sia però più continuo, che continui a farci vedere questi interventi, magari continuasse così, Fonseca nervoso, nervoso fin dall'avvio della partita, fin dall'avvio che veniva inquadrato, era tutto stizzoso, perché mi dicono che ha anche un carattere un po' particolare, un po' permaloso Fonseca, ma noi di permalosi ce ne intendiamo perché abbiamo avuto un allenatore come Spalletti che era veramente molto permaloso, io me ne sentivo tutte le conferenze stampa, che faceva con la stampa romana oggettivamente Spalletti, come molti toscani è permaloso, però rimane un grosso tecnico, un tecnico al quale io riconosco grandi qualità, il problema è che quando tu hai questi limiti caratteriali, c'è un certo tipo di giornalista che ci va a nozze, perché sanno che ti fanno una domanda scomoda e tu rispondi male, come per esempio a un certo punto, era un classico, gli continuava a fare le domande su Totti, che lui non ne voleva sentire più parlare, lui diceva basta con Totti, io alleno la Roma, non alleno Totti, parlate sempre di Totti, ma quelli ti parlano di Totti perché sanno che ti incazzino, quindi dici cose che sul giornale, il giorno dopo, ah, Palletti tuona, basta parlare di Totti, capito? Era quello un po' il gioco, quindi Fonseca non deve cadere in questa trappola, perché fai l'allenatore a Roma, non è semplice, non è semplice per la tifoseria, per quelle che sono, che è una tifoseria molto calda e passionale, ma anche molto lunatica, per quelle che sono le aspettative di una società che non vince uno scudetto dall'anno 2001, ragazzi, sono passati vent'anni, sono tanti, Roma è la squadra della capitale, non è che è una squadretta così, una delle tante, quindi per tutti questi motivi, poi c'è una stampa con tanti media, tante reti private, tante radio, soprattutto private, giornali, si parla della Roma dalla mattina alla sera, chi conosce Roma sa che si parla di Roma e Lazio dalla mattina alla sera nella capitale, quindi perdi una partita e subito un pandemonio, non tutti gli allenatori hanno le spalle larghe per reggere questa pressione e forse anche non tutti gli allenatori si rendono bene conto di quello che gli aspetta venendo allenata a Roma, quindi se tu hai la fortuna di fare il Rudy Garcia della situazione che arriva pronti via 10 partite e 10 vittorie, è chiaro che tutto si mette sul giusto binario e quindi tutti ti supportano eccetera eccetera, se tu invece arrivi e hai dei problemi come è successo per esempio a Luis Enrique che era un'ottima persona ma non riusciva a portare i risultati perché aveva un modo di gioco che purtroppo con quel tipo di giocatore non ha funzionato bene, con questa sua ossessione di partire sempre, fatto attire l'azione dal basso ma con una troppa lentezza, eppure Luis Enrique anche a Barcellona ha dimostrato invece di essere un allenatore che con i giocatori giusti, con le caratteristiche tecniche giuste per il suo tipo di gioco poteva fare bene. Qual è il vero valore di Paolo Fonseca oggi? Fonseca secondo me è un ottimo allenatore, non ho motivo di pensare che non lo sia, purtroppo come ho detto tante volte è un integralista, un estremista, lui c'ha un modulo e batte su quello, è un po' come Sarri sotto questo punto di vista, no? Si fissa molto su alcuni giocatori, si è fissato su Lorenzo Pellegrini, si è fissato su Bruno Perez, si è fissato su Paolo Lopez, sui momenti nei quali soprattutto questi giocatori non stavano giocando bene, cioè io ho tanti giocatori nella mia rosa perché cosa significa? Che quando dei giocatori non sono in forma o si infortunano, li metto da parte e faccio a altre persone, Lorenzo Pellegrini sono settimane, mesi forse che è da sostituire, da mettere in panchina, ma gli farebbe solo bene la panchina perché probabilmente riuscirebbe anche, non so, a rigenerare un po' di energie nervose, fisiche, invece viene continuamente messo in croce con la sua fascia da capitano e gli si dice vai e dimostra a tutti quello che vale, ma Lorenzo Pellegrini non è né Francesco Totti né Maradona né Zico, cioè è un buon giocatore che messo vicino a gente molto forte, per esempio in un centrocampo con Totti e De Rossi, Lorenzo Pellegrini ha un senso e sicuramente si prende sempre un 6,5, ma è diverso il discorso che Lorenzo Pellegrini oltre a fare il capitano della squadra deve essere il trequartista, cioè quello che ti prende veramente sulle spalle il gioco, Pellegrini non ha queste caratteristiche, questa cosa Fonseca non l'ha capita, non l'ha capita e continua ad insistereci sopra, quindi speriamo insomma che sto ragazzo abbia un'evoluzione rapida e significativa, perché secondo me lui sta continuamente facendo delle partite da 6, tira tutte le punizioni, le sbaglia tutte, una è andata in porta, ma è andata in porta perché c'era mandata al portiere loro, non certo perché Pellegrini ha tirato bene, anzi peggio di così con la punizione non si poteva tirare, solo tirando alto di 3 metri avessi potuto tirare peggio, è anche molto debole un tiro, ha tirato talmente male che ha ingannato il potiere perché non si aspettava mai un tiro così velletario e stupido anche, fiacco, moscio, prevedibile, comunque vedremo che cosa succede a questo punto, naturalmente ripeto tutta l'attenzione è su Roma Ajax, Roma è l'unica squadra italiana rimasta nelle coppe europee quest'anno, ma prima c'è da giocare Roma Polonia che cercheremo di mettere a fuoco nei prossimi video, con questo ho concluso, buona serata a tutti, se vi è piaciuto il mio video iscrivetevi al canale mettete anche un like se vi fa piacere e alla prossima